Ecco, ci eravamo ritrovati qualche mese fa, poi c'è stato un momento di pausa, adesso gli assalti al settore orafo argentiero sono purtroppo tornati davvero cronaca di tutti i giorni. Tra l'altro, ditte anche di argento, questo gli imprenditori ce lo spiegano perché è salito il prezzo del metallo, quindi anche l'argento è diventato un metallo appetibile. Ma come ci si può difendere? Allora, innanzitutto non facilmente perché la lavorazione dell'argento importa spessissimo quantità di metallo all'esterno delle cassaforti perché di sotto hanno volumi molto importanti. È vero che è aumentato ma è anche vero che non è che rispetto all'oro, insomma il prezzo è sui 0,80 intorno al prezzo. Chiaramente però, vedendo quello che sta succedendo in città, è evidente che c'è un allarmismo molto forte perché i furti si ripetono in continuazione. Il primo consiglio che abbiamo dato è di rivedere un po' gli impianti, ora non perché siamo installatori, ma effettivamente c'è stato un po' di lassismo negli ultimi anni perché di argento non si parlava mai. Quindi di rivedere con tecnologie innovative, con protezioni più sostenibili la parte impianti. Queste aziende, molti hanno anche apparati di vicinanza di vecchio tipo e questi qui hanno un po' di problemi per quello che riguarda la sicurezza della trasmissione, a differenza di quelli installati dopo il famoso 2011 che sono inattaccabili. Ultima cosa, proteggersi meglio con apparecchiature che evitano perlomeno di avvicinarsi al metallo. Il prodotto che noi stiamo utilizzando da tantissimi anni, perché la moda lo utilizzava già 20 anni fa, è il nebbiogeno. Il nebbiogeno in pochi secondi riempie l'ambiente di nebbia e quindi a due centimetri ti permette di non vedere nulla. La nebbia però può essere dannosa sia ovviamente per l'uomo ma anche poi per i macchinari e soprattutto ci può essere un falso allarme? Diciamo che è una nebbia identica a quella che viene usata in discoteca oppure negli ambienti di divertimento, senza far nome nei parchi giochi dove si entra a queste gallerie nebbiose. Il problema del falso allarme è un problema serio perché una volta che l'apparecchiatura parte per togliere la nebbia dall'ambiente ci vuole un'ora, un'ora e un quarto. Proprio per questo, a parte di utilizzare installatori certificati, viene utilizzato un sistema che centralizza l'allarme solo e esclusivamente nell'area dove lavora il nebbiogeno, con un sensore ad hoc, quindi non è che se c'è un falso allarme generale il nebbiogeno piglia e spara, no, il falso allarme generale c'è un preallerta il nebbiogeno e poi quando la persona entra nell'ambito d'azione nei locali dove il nebbione deve lavorare si attiva solo in quel momento lì. Quindi non solo installazione ma anche una manutenzione da affidare insomma appunto agli esperti. Sì, sì, l'apparecchiatore sono muniti di intelligenza artificiale, ora va di moda dirlo, cioè nel senso che qualsiasi tipo di anomalia tecnica la segnala immediatamente, quindi per evitare proprio questo. Chiaramente queste anomalie vanno riportate immediatamente a un centro di controllo di modo che, ripeto, quando c'è bisogno che questa macchina funzioni deve essere al 100%. Grazie.